Prima edizione dell'evento Idee, talenti e creatività voluto fortemente dagli studenti e dai docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale a Vocazione Turistica e in Audi di Ortona in occasione della giornata dell'arte e della creatività indetta dal MIUR. Momenti intensi e costruttivi con gli studenti che si sono espressi nei vari linguaggi artistici presentando i lavori compiuti durante l'anno scolastico. È stata allestita una mostra di disegni realizzati dai ragazzi del biennio e ancora esposti i quadri della pittrice ortonese Filomena Marinozzi, ex docente, e una mostra di plastici dello scultore Massimiliano Signorile. Uno di loro ha fatto da scenografia alla rappresentazione di un radiodramma realizzato proprio dagli studenti delle seconde e ispirato al racconto di Alessandro Don Marco dal titolo Una notte del 43. L'opera autobiografica narra del crollo della casa dell'autore e dello sgomento dei familiari alla ricerca disperata della sorella sepolta dalle macerie. Il crollo avvenne durante la battaglia di Ortona. Presenti anche i registi Fabrizio Franceschelli e Anna Cavasini che hanno dato vita a una serie di documentari sulla seconda guerra mondiale dal titolo La guerra in casa. E poi gli interventi dello scrittore Antonio Tenisci autore di un romanzo sulla battaglia di Ortona. Una giornata indimenticabile. Il dirigente scolastico Marcello Rosato. Questa mattina l'abbiamo voluta dedicare a appunto idee, talento, creatività, che significa dare la possibilità un po' come si fa con i ragazzi del nautico per la giornata del planetario, dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi al di là della stretta lezione didattica con tutte le loro potenzialità e mettere in atto, realizzare, concretizzare attività che sono parallele ma importanti a quelle scolastiche. Quindi per dare un senso di appartenenza alla scuola. Abbiamo visto tante iniziative anche che riguardano l'appartenenza a un territorio, la propria storia per un istituto che è in controtendenza rispetto ad altri dati. Sì. I ragazzi si sono focalizzati sulla Seconda Guerra Mondiale ma la micro storia di Ortona. Quello che è successo ad Ortona con l'occupazione, con la liberazione. Abbiamo voluto dare la possibilità ai ragazzi di vivere la storia direttamente sul campo. Per quanto riguarda l'istituto tecnico commerciale sono profondamente contento di quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Abbiamo rivitalizzato i corsi, abbiamo dieci classi, due corsi completi dalla prima alla quinta del turismo e di amministrazione, finanze e marketing. Sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale possiamo considerarlo in controtendenza positiva. Anche perché in questo momento magari gli studi commerciali non sono tiranti rispetto ad altri indirizzi. Probabilmente le famiglie hanno voluto dare fiducia alle tante attività didattiche destra che si fanno in questi istituti. Grazie. 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 Grazie.